Musica Ok, bella tutti ragazzi, io sono Fabio, non è vero, non sono Fabio, sono leoboy299, iscrivetevi a, aspetta, dove la videocamera? Eccola lì, iscrivetevi a questo canale, questo è lo speciale di Halloween, sono 30 minuti e 36 di video, io spero che siano belli questi 36 minuti, Ok, c'è un po' di capelli in faccia, guardate i miei capelli di quanto sono brutti, per la prima volta vedete la mia faccia, adesso con questo sfondo un po' di cacca qua, aspetta che c'è uno sfondo un po' di cacca, lasciatela, ragazze, mi raccomando, aspetta un secondo che adesso cerco di fare una cosa, ok, ok, dovrei parlare più vicino alla videocamera, però non c'ho voglia perché adesso vi sentirete basso, molto basso, cacca c'è dello slime davanti al gioco, non riesco a vedere, ragazzi, Oh c'è uno squalo, ciao bello squalo, ti di dijiti, wey piscuano, wey, asqualo, ando stai? Ciao bello, io ti conosco e non mi viene la rima, a ba' easy, ciao bello, pum martello, aiuto aiuto aiuto, aiuto non no, no no, 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 lo squalo non mi uccide, lo squalo mi uccide, aiuto, aiuto... non mi città, perfetto bravo ok 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 perfetto vai, spacca la cassa vai ho anche sbagliato, dai che ci stai mamma mia, sobbiamo andare a Castello Corollino guarda eh ti provo uccidere lo squalo eh si, tiro gli scellini, bravo furbo complimenti bravo, non posso farmi l'applauso perchè sto giocando però farò così ciao lo risconcidero ho finito di costruire le munizioni praticamente ok coro, 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 coro perfetto perfetto perfetto, perfetto Castello Corollino e scendiamo giù, 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 giù allora qui dovrebbero esserci la sfida del corallo ma non so dove sono, vabbè di cerco a caso se lo becco bene ce l'hanno non riscuo di trovare però qua c'è una classe non spocchiamo sto spocchando la scuola la scuola lo trovato veramente cc ho trovato uno ho pensato sulla casa coglione ok oh raga, cheat io qua muoio io ve lo dico che qua ci muoro scommetto 5 euro che muoio ho beccato lo scuola ho beccato lo scuola c'era la persona lì ho beccato lo scuola ma mannaggia alla miseria c'era una persona e un peccato una scuola com'è possibile impossibile stiamo un punto un punto un punto un punto non finiscono città assumere quello dell'area guarda non ci volevi ma adesso casco giù muoio no 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 cosa questa cosa cos'era oh cacchio no eh vabbè niente ok parte la concentrazione ragazzi mhm ehi fra mhm ehi fra ok adesso parlerò tra poco poi vi lascerò alla transizione chiusa va bene bella bella ehi ma i qui c' beau mhm ela qui con Grazie a tutti. 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 ok. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.